Questo sabato alle ore 18 inaugura la diciottesima edizione degli orti di Pignone, una manifestazione davvero importante per questo comune e una manifestazione che muove davvero tantissime persone, tantissimi volontari. Gli orti sono diventati grandi, sono diventati maggiorenni, questa è la diciottesima edizione. Sono cresciuti, piano piano è cresciuta anche l'affluenza della gente, però è rimasto tutto sommato lo spirito originario che era quello di una comunità che si presenta, che offre il meglio di sé, i propri prodotti, la propria cucina. Ci sarà anche un'organizzazione importante dal punto di vista anche della sicurezza e della viabilità naturalmente. Certamente, abbiamo cercato di attenerci a quelle che sono le nuove disposizioni, con questo non si vuole creare né preoccupazioni ma soltanto far sì che la gestione sia ordinata e quindi si possa godere la festa serenamente. Sabato e domenica naturalmente i protagonisti assoluti saranno i prodotti dei produttori delle valli del Casale di Pignone. Quanto sono cresciuti in questi anni? In questi anni sono cresciuti molto, se penso al 2000 siamo cresciuti molto, ora abbiamo un'associazione, le valli del Pignone del Casale, che conta una ventina di soci. Produciamo molti quintali di patate, parecchi, non abbiamo ancora fatto il conto perché in questi ultimi giorni si è ultimata la raccolta, però le patate sono molto buone. Ci saranno i contadini di Pignone in piazza a portare tutti i loro prodotti, la regina ovviamente è la patata, tutti i prodotti che impreziosiscono la nostra festa, che vengono dai dintorni ovviamente chilometro zero. Una mostra a mercato perché di questo si tratta, ma soprattutto anche possiamo dire una passeggiata gastronomica alla scoperta delle bellezze di Pignone e della bontà che Pignone sa offrire. Tra le novità di quest'anno, nello stand del Campanile ci sarà a mezzogiorno di domenica, c'è un tentativo di gnocchi, perciò proprio fatte con le patate di Pignone. Ci saranno la birra di torza, che è una birra artigianale, viene comunque Valdivara, è alta Valdivara, comunque Valdivara e comunque avremo anche un gelataio che produrrà gelati artigianali, perciò quest'anno tentiamo di fare le cose, speriamo bene, nel modo migliore. Veniteci a trovare, a degustare gli arrosticini, i minestroni e quante robe ci sono possibili.